Buongiorno, sono la maestra Antonella Giordano dell'Istituto Comprensivo Oristi dei Gabelli di Torino e grazie al progetto ANTER e solo in classe due nostri ragunni hanno vinto le elezioni per il Consiglio dei Ragazzi, trattando le seguenti tematiche, l'eliminazione della plastica nella mensa, l'utilizzo di borracce e l'installazione dei pannelli fotovoltaici per l'Istituto. Votateci affinché i bambini possano vedere realizzato uno di questi punti. Grazie! Come ambasciatrice dell'Associazione ANTER invito tutti voi a votare per la scuola Pestalozzi. Ringrazio la dirigente scolastica, ringrazio le insegnanti, ma soprattutto ringrazio voi, alunni della Quinta B, che mi avete permesso di condividere insieme un progetto fantastico e vi siete impegnati affinché tutto possa realizzarsi. Quindi votate, votate, votate! Grazie! Grazie!